...a un grande spettacolo in questo bel campo, nel nostro campo di segno. La partita semifinale del campionato europeo in campo per il Castellaro, Festi Luca, Meridi e Alessandro, Festi Emanuele, Llori Snichi, Lesteretti Federico, Vinzi Pietro, De Marco Francesco, Gianini Davide, direttore tecnico Baldini Luca, per il Solferino, Ioan Pieron, Manuel Beltrami, Luca Marchidan, Gerada Walter, Martinetto Filippo, Massimo Merlo, Mattia Cristani, Direttore tecnico Spazzini, Marco, Mario scusate, Albitra Agnoli con Frasnelli e Sona. Buona partita a tutti e per voi e per noi c'è l'Inno d'Italia. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Primo punto al soffereno. Grazie a tutti. 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 , a tutti. Grazie 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 a tutti. , 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 a tutti.